Le radici sono importanti. Vivo a Grosseto, una piccola città di 80.000 abitanti sulla costa della Toscana. Il luogo di appartenenza è molto importante nel mio modo di vivere la sfera professionale. Ho deciso infatti di non abbandonarlo, ma anzi di investire nell'apertura della mia casa studio. Voglio dimostrare a tutti che si può lavorare con soddisfazione e raggiungere il successo anche avendo come base una piccola città di provincia. Ho frequentato il corso di design alla Libera Accademia di Belle Arti a Firenze. Ho avuto l'onore di incontrare professori illuminati che mi hanno insegnato quanto sia importante il valore umano, di come sia essenziale coniugare forma e funzione per la buona riuscita di ogni oggetto e di ogni progetto. Grazie a tutti.